quello di oggi è un sentiero è un anello escursionistico che si incammina ai piedi della croda granda mi trovo nella gordino in quel versante più occidentale che guarda verso il vicino trentino ed è un anello escursionistico che parte direttamente dalla piccola località di domadore mi trovo vicino al passo cereda una strada bianca che dà come indicazioni il sentiero 720 che sale in direzione dei prati forca e che vede come il suo obiettivo iniziale casera cavallera e il bivacco menegazzi per poi risalire leggermente in direzione di casera dei camp La strada bianca, il sentiero 720, a un certo punto arriva in questo tratto dove c'è un cambio di sentiero, o meglio c'è questo bivio, che prosegue sulla destra in direzione del Pian del Gall e di Malga Camp, che troverò però più tardi durante la fase del mio rientro. In questo caso proseguo sulla sinistra, il sentiero rimane sempre il 720 con indicazioni Malga Cavallera e bivacco Menegazzi. Grazie a tutti. Ed è così che in circa un'ora di medio cammino giungo in Casera Cavallera con un dislivello dal punto di partenza di Domadore che si aggira sui 350 metri in salita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed ora lascio Casera Cavallera in direzione del bivacco Menegazzi. Si tratta di un cammino di una quindicina di minuti su un sentiero, sempre il 720, che inizia proprio in prossimità della casera stessa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed ora proseguo il mio cammino in direzione di Malga Camp. Nuova numerazione di sentiero 773, il 773, che cammina alla base della croda grande e come indicazioni che trovo qua direttamente al bivacco Menegazzi oltre Malga Camp, passo di luna e il rifugio scarpa Gurekian. Grazie a tutti. 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 Ed eccomi in casera de camp, 1750 metri di altitudine in circa un'ora e dieci. di facile cammino direttamente dal bivacco Menegazzi. Grazie per la visione! Ed ora è il momento di rientrare, di scendere nuovamente a valle in direzione di Domadore che questa mattina è stato il punto di partenza di questo anello escursionistico e l'intero sentiero si compone di quella strada bianca che ho risalito per buona parte questa mattina quando da Domadore stesso sono salito in Casera Cavallera seguendo le indicazioni per Villa Sant'Andrea e Pian del Gallo Grazie a tutti! E' arrivato al Pian del Gallo a 1530 metri devo seguire le indicazioni che danno per Malga Casera Cavallera e il bivacco Menegazzi. Sebbene sia un sentiero che dia come indicazioni Casera Cavallera e il bivacco Menegazzi che sono comunque più in quota rispetto a quella mia attuale questa lunga discesa questa strada bianca tiene sempre come riferimento i Prade Forca che praticamente anticipano di poco l'arrivo a Domadore. E anche in questo caso rimane come senso di marcia la tabella indicativa per Malga Cavallera e il bivacco Menegazzi Casera Ortiga a 1592 metri di quota si segue ora solo le indicazioni per Malga Cavallera ed eccomi a congiungermi nuovamente con la strada principale il sentiero 720 che questa mattina ha avuto la strada di proprio in questo punto si è diviso in due parti dove io sulla sinistra nel giro di una quindicina di minuti sono giunto in Malga Cavallera ed ora una bella discesa che in circa 20-25 minuti meno sicuramente di una mezz'ora mi riporterà nuovamente al punto di partenza di Domadore e per darvi così qualche indicazione tecnica è un anello che si chiude praticamente in questo punto poco prima di giungere a Domadore che si completa in meno di 6 ore io ho calcolato 5 ore e mezza 5 ore e tre quarti all'incirca soste in club se sia chiaro da un punto di vista di impegno fisico la parte più impegnativa è quella che da da Domadore stessa sale in direzione di Malga o Casera Cavallera con quei 320-325 metri di dislivello in continua salita tempi di transito all'incirca un'ora e un quarto, un'ora e dieci poi per quanto riguarda il bivacco Menegazzi dalla Cavallera stessa lo si raggiunge in circa una quindicina di minuti con un dislivello benché minimo invece per quanto riguarda Malga Camp direttamente dal bivacco Menegazzi anche qui si tratta di un cammino all'incirca di un'oretta e dieci, un'oretta e un quarto con un dislivello benché minimo che io ho calcolato dalle due diverse altimetrie quella dalla Menegazzi e quella della Malga Camp stessa in circa 25-30 metri di dislivello in salita quindi un bel sentiero boschivo molto facile quasi tutto orizzontale e per quanto concerne invece la parte finale quella che da Malga Camp scende nuovamente a Domadore diciamo che nel giro di un'oretta, un'oretta e un quarto, forse anche meno di un'oretta se avete una buona gamba si chiude così questo cerchio anche perché si tratta di un tratto finale completamente in discesa di un'oretta, un'oretta e un'oretta, un'oretta e un'oretta di un'oretta